Ragazzi buongiorno, io sono andata da poco da lavoro, adesso cambio assolutamente super velocemente le lenzuola della cameretta di bimbi e ci vediamo tra un attimo così vi faccio vedere il lavoro finito Ok, risistemo il coprimaterasso che è veramente super scivoloso, non mi piace per niente, infatti non lo comprerò più una roba fatta così veramente fastidiosissima perché scivola in un attimo Bene ragazzi, uno è fatto adesso lo mettiamo in dentro Bene ragazze, ho terminato, non fate caso le lenzuola, io non le stiro mai, non mi interessa perché sinceramente perdere tempo per stirare le lenzuola anche no perché tanto poi le devo andare a rimettere quindi in genere le tiro fuori dall'asciugatrice e le metto giù su, faccio così poi a volte le devo cambiare quindi a volte le piego così come sono calde Ok, ciao!